ciao ragazzi e benvenuti in questa nuova puntata di contatori del tempo un altro episodio dedicato ai vostri video e vola un'altra puntatella natalizia sotto le feste dedicata ai vostri orologi alle vostre collezioni ai vostri video qua siamo tutti addobbati perché si sente l'aria del natale no ci piace tanto il natale a noi molto e niente come partecipare lo sapete video in orizzontale anche infatti con lo smartphone poi li inviate al mio simpatico indirizzo email prima ricaricate sui transfer.com e poi manda del link naturalmente poi guardiamo qua tutti assieme commentiamo le esperienze positive negative la vita e come va e come va 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 ora oggi all'orologio del giorno oggi è questo strano ma ormai non ho ancora smesso di c'è non si è ancora fermato da quando l'ho preso a fine novembre mi sembra no fino ottobre ma non mi ricordo più long in legend diver da 39 mm calibro certificato cronometro calibro l888 doppia corona impermeabile 300 metri orologino con suo bracciale a chicchi di riso dicevano se ancora non ho ancora fermato nel senso che ho indossato ho messo nella scatola del tempo quindi è sempre marciato la precisione ve l'ho fatta notare già l'altra volta quindi c'è poco da stare e cosa manca 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 la sigla natalizia la sigla natalizia fatta e adesso dito infuocato e partiamo col primo video va ciao davide ciao amici del canale youtube amici del canale volevo farvi vedere una cosa un po da ridere stavolta non è parte della mia collezione ma è una ciulata che si è preso un amico da un sito di quelli online non ricordo se wish o quell'altro temu perché voleva prendere un bellissimo seiko presage automatico bene ha ricevuto questo che vi farò vedere questo bellissimo orologio seiko presage con queste due lancette che si possono vedere una e due finte come potete vedere di automatico non c'è nulla perché ovviamente è un quarzo me lo sono anche aperto guardate che spettacolo bellissimo eh automatico presage automatico ma la cosa ancora più da ridere beh forse si può salvare guardate come è scritto seiko sulla fascetta la cosa forse che si può salvare è il cinturino vabbè per il prezzo che ha è come aver preso un cinturino e buttare via tutto il resto ma la cosa stupenda nonostante fosse un sito cinese è questa che volevo condividere con voi il fondello c'è scritto un maiale che non vola è solo un maiale porco rosso poi c'è limited edition 001 barra 600 e poi c'è studio ghibli seiko un sacco di cazzate vabbè era solo per condividere con voi appassionati che si può anche prendere uno splendido seiko presage automatico che in realtà ha un movimento al quarzo orrendo ed è una ciulata state attenti davide invece a poco ti manderò la mia collezione di orologi ti manderò quella di quelli un po più non dico economici ma un pochettino più semplici e poi magari un'altra di quelli un pochettino più complicati grazie a tutti davide se è uno spettacolo a presto ciao e non ti incazzare come fai sempre ultimamente mi raccomando ciao ciao va bene va bene stavo guardando l'orologio li piazzato sul tavolo che veramente le lancette finte le due lancette finte di plastica un giocattolo cioè ce ne rendiamo conto di come ora sarebbe stato interessante che tu avessi specificato bene qual è il sito ma questo succede quando si comprano orologi da portali che sono un po così e così no cioè io dico prendiamo gli orologi dai rivenditori ufficiali o da portali seri non da 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 ora qualcosa uno cosa questo è un falso praticamente perché il marchio seiko ce l'ha messo loro è falso no che cosa cosa puoi fare una prova a fare una causa a un'azienda cinese provo a vedere cosa succede le passi di quelle non ti passa più nemmeno per la pratica nel cervello poi il discorso del porco rosso dietro il porco rosso esiste veramente visto che ridevi ma esiste veramente l'edizione limitata della seiko no solo che qua hanno fatto un mischione ci hanno messo tutto quello che potevano metterci ce l'hanno messo dietro scritto uno su 600 probabilmente a ognuno gli arriva uno su 600 capito non è progressivo e via così poi abbiamo visto il bellissimo quarzettino che c'è dentro con tutta la plastica bianca intorno a tenerlo fermo mamma mia le scritte seiko falsificate in maniera proprio completamente inventata niente poi questo è bello vederlo via video perché colpisce di più perché un conto è vedere un'esperienza del genere su un forum o su una chat telegram no uno te lo racconta passa va veloce nel video è più incisivo track ti fa vedere proprio bene tutto come andato te lo spiega e ti rimane inculcato in testa il fatto che su certi portali è bene non fidare anche perché ora magari qua c'era sta foto qua e uno un po sgammato la vede che non è no ma se ti mettono la foto di un orologio vero reale genuino e poi ti mandano questo cosa ci fai poi dopo il rimborso si voglio vedere cosa succede va bene comunque grazie per la simpatica esperienza che ci hai portato negativa per il tuo amico ma è tutto fieno che si mette in cascina o nella fare tra fare tra e così siamo avanti si impara così no prossimo video ciao davide ciao stefano complimenti per il canale e grazie per la possibilità a noi appassionati di mostrare quelle che sono le nostre collezioni ma detto questo vado a farti vedere i miei pochi orologi così mi dirai cosa ne pensi va bene primo è questo zenith automatico dagli anni 70 come vedi il la lente e la lente riparto giorno è andato devo ancora mettere a posto vabbè un orologino quadrato piccolo cioccolatone non lo metto mai però è un ricordo e qui va bene ci sta rimane la collezione simpatica secondo sempre vintage e questo del rio di cui io non ho notizie quindi sei notizie ti chiederei di chiammele un crono carica manuale funziona credo che abbia una cinquantina d'anni il cinturino non è il suo è stato messo dopo però è particolare c'è la sua funzione crono quindi insomma un bel orologino si serve sempre sul vintage abbiamo questo zenith in oro un po pesantino da mettere perché tutto oro non riesco mai a metterlo però era l'orologio diciamo della domenica di mio nonno quindi lo mantengo lo tengo un bellissimo ricordo poi un bel orologio con la sua carica manuale e il suo crono che come vedi funziona ancora piccoli ora è sera del nono te non te lo metti perché è troppo pesante magari visivamente tutto d'oro io me lo metterei tranquillamente mi importa sa è oro se fosse tutto placato mi vergognerei perché è semplicemente volere essere vistosi essendo d'oro un materiale prezioso lo indosserei volentieri poi se te non vuoi indossarlo perché quei bracciali li è un po attira un po gli sguardi no particolare che per me non è un problema attiro gli sguardi io figurati se mi importa qualcosa se le bracciali attira gli sguardi ci metti un cinturino in pelle nera è che quello lì è l'orologio perfetto cioè il vintage perfetto che tutti vorrebbero cioè no vedi vedi di rivalutarlo un pochino di indossarlo da vino vetro credo sia plastica e per forza molto bello molto bello con le sue funzioni crono certo a seguire sempre modelli sul vintage o bello anni 70 pieno l'orologio che mio nonno usava al mare e un 70 metri impermeabile anche troppo anche lui basta muoverlo che parte anche lui impermeabile funziona sempre all'orologio che non lo teneva al mare quindi lo mantengo come come ricordo gli ho messo sto cinturino in caucciù moderno ma lui nasce con un cinturino in acciaio poi sempre ci andiamo un po indietro come come cos'è questo cipollone che era di qualche bisnonno fa dei rumori un po antichi ma si è caricato si spacca parte ma non farlo partire e non farlo partire un orologio da tasca beh credo sia in argento si può anche aprire per permetterci le non so nulla di questo vedette ovviamente è un ricordo così nessuno giro col panciotto con questo attaccato però il giro col panciotto con questo attaccato ok perché te sei abituato a vedere film western oppure no gli uomini dell'ottocento inizi novecento con il panciotto e il l'orologio da tasca da taschino del panciotto in realtà i levis per esempio dei 501 la taschina qua è ci sta ci sta perfettamente nella seconda taschina il 1 un orologio da tasca cioè volendo rilanciare la moda e non escludo che da qui a 50 anni no perché è successo di tutto pandemia guerre succede tutto figurati se qualcuno non può reinventare la moda del dell'orologio da tasca nella nella pocket dei dei jeans e vedrai che ci qualcuno ci penserà quindi non serve per forza panciotto dio sto qua mi sembra gigantesco quindi una taschina anche bello spesso e fa anche un rumore diciamo sinistro è un rumore sinistro quello lì di ingranaggi che stanno facendo scrunch scrunch e io mi immagino tutto cioè i residui di e di acciaio di metallo che si sgretolano all'interno tra attento dovessi travestirmi da sherlock holt se potrei prendere in considerazione poi andiamo più sui moderni speriamo una collezione prettamente di diver primo questo qua non gina idroconquest e un due o tre modelli fa 41 millimetro tutti in acciaio ieri due o tre modelli anche anche quattro modelli fa è quello che ho sempre detto io che ho sempre preso come esempio noi non gina idroconquest con i numeri arabi a corollario del quadrante a bello proprio bello pur essendo vecchio no è bello alluminio vetro zaffero usato al mare sempre va funziona perfetto non perde un colpo professionale al suo cinturino in acciaio bracciale bellissimo orologio va bene poi sempre diver ho questo bellino che conoscerai un micro brand italiano particolare perché aveva questa ghiera coi tempi di decompressione attenzione io non faccio nel sommozzatore nel palombaro però mi diverte l'idea di avere un orologio molto impermeabile questo uno che gli piace molto andare al mare nuotare fare i bagni immergersi con la maschera però bravo questo era carino ricorda un po come stile si dueller questi diver di grande profondità però insomma fatto bene poi il fatto che fosse un micro brand di ragazzi mi ricorda mi voglia di prendere poi ho questo sempre un diver gerard perigo nero black edition credo si chiami così dalla ghiera in titanio la cassa in ossido di zirconio titanio praticamente un g shock lussuoso questa cosa questa cassa è molto più dura dell'acciaio quindi volendo all'emergenza può usarlo anche per piantarci dei chiodi sto scherzando però molto molto robusto particolare totalmente nero e di data piccoli secondi riserva di carica il g shock dei ricchi via continuando sempre diver bello top tudor black bay adesso al cinturino in caociù se non nasce col suo acciaio rivettato un classico bellissimo orologio elegante rosso lui si è fatto settimane al mare senza batter ciglio e l'ho preso rosso perché per me il tudor era rosso la ghiera rossa bravo distinguersi un po come per rolex il particolare a quello con la ghiera verde o nera il tudor ha fatto a ragione piaceva l'idea della ghiera rossa ragione sono d'accordo conti su questo proseguendo ancora non è un diver ma bello sto genere mi piace questo zenith mamma mia che bello in automatico adesso qui dietro non si vede la cassa perché c'è in uso da questo nato se lo sfiliamo ecco qui c'è il suo zenith bello bello che la cassa orologio automatico con la funzione fly back quindi fai partire il cronometro segni un tempo torna indietro riparte quindi può essere molto utile se devi cronometrare anche se credo che se uno deve cronometrare usa un digitale usa un digitale si va bene però intanto mi capita a me di utilizzare che il cronografo mi capita di utilizzarlo però poi mi dimentico ah 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 tipo ecco devo tenere questo tempo qua no trac do la via poi mi dimentico guardo guardo l'ora sul computer ah sì devo andare e questo qua continua a girare per ore per ore per ore succede questo zenith il primo qua mi piace molto 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 e te lo invidio bi compacts così è particolare poi anche la cassa aveva un colore di acciaio molto molto particolare di sfumato no veramente bello fai bene così poi con quel nato lì ci sta benissimo complimenti perché mi piace tantissimo quasi quasi non è detto che diametro io non ce l'ho non ce l'ho presente perché il primo di ora con quella lancetta cronografica che va veloce non è che mi fa proprio tanto godere però va bene speriamo che facciano anche una versione moderna quindi tornino al calibro 400 normale va bene a seguire un altro diver eccolo qua mamma mia questo top il listener den marine diver 300 metri anche lui piccoli secondi riserva di carica data senza lente in rilievo ma smerigliata nello zaffero mamma mia molto marino perché ha non so se si vedono ecco lì delle ondine la ghiera tutto in acciaio con inserti in titanio addirittura dietro ti dice conquistare l'oceano quindi per uno che va sugli scogli come sottoscritto avere la conquista dell'oceano al ponso avendo un uomo felice e infine primo orologio lussuoso che diciamo lussuoso tra virgolette l'ho comprato con i primi risparmi ecco questo è l'omega sea master planet ocean il big size era uscito con il 2006 quando daniel craig faceva 007 ecco io non ho le pretese di essere 007 però un orologio che ho usato mare con lo uso sempre come gli altri non dà problemi fa le sue manutenzioni iconiche un po grande perché questo è un 45 e ce l'avevo anch'io mi piacevano quelli gradi un bel orologio nasce col suo cinturino in caociù però l'ho cambiato e sono ordinato quello nuovo ma gli ho messo questo tipo corda un po grezzo ma lo rende bello perché è bello il panettoscia grazie di tutto complimenti per il canale a presto spero ti sia piaciuta questa piccola cosa è piaciuta sì mi è piaciuta mi è piaciuta perché praticamente è tutti marchia anche stra un listener dance ma vi girare per e go poi quello lì tutto nero non sei mai visto no vai a scegliere anche delle cose particolari per esempio di omega uno potrebbe avere lo speed master no c'è il planet ocean questo planet ocean quad a 45 in realtà da 45 5 mi sembra vabbè se non è da 45 5 da 44 l'ha fatto non mi non mi risulta secondo me da 45 5 se te misuri la ghiera col calibro la ghiera è 42 quindi se misure la cassa è 45 5 la ghiera è 42 e quindi quello lì che ti dà al posto è grande si è grande ce l'avevo anch'io c'è la ghiera arancione io è un orologio che non ti nego che fino a che a ieri e l'altro sono andato a vedere quanto costa usato su su crono 24 perché sono quelli del quelle lì del 2007 che mi piacciono di più quelli col calibro 2500 no però siccome io l'ho venduto 2004 e ora costa 4000 prende prende male no vendere una cosa a x e poi dopo ricomprarla a x più x proprio concettualmente ti dici ma minchia ma allora tanto valeva che lo tenevano in quel momento lì invece lo vendi per prendere qualcos'altro quindi comunque bella collezione dove poi soprattutto quel longinetto hydro conquest con tutti i numeri arabi che tanto mi piace e sono d'accordo con te anche lì hai fatto una scelta fuori d'accordo il black bay con la ghiera rossa non ho capito se l'ultimo modello è uscito 41 no se è quello più sottile sì credo di sì anch'io lo prenderei con la ghiera rossa anche lì nonostante io dica che tudor non rientra nei miei gusti non lo comprerei nel senso no non rientra nei miei gusti mi piacciono e tutto mi piaccio ma non lo comprerei questo qua ghiera rossa black bay ghiera rossa è uno da 41 è uno di quelli che potrei che potrei tranquillamente averlo collezione senza sentirmi in difficoltà poi gli altri orologi insomma non tutti fanno panda con quello che voglio io dall'orologio quello che voglio dell'orologio che abbiano propria personalità identità sia abbastanza riconoscibile laddove è possibile poi se non è possibile pace però più più spendi magari più cerchi di che si che abbia personalità no prossimo ciao davide sono giuseppe da monza monza è il mio secondo video che ti mando addirittura e volevo ringraziarti perché ho avuto l'onore e il piacere di conoscerti in quel di orologico a gonzola mitico e vediamo se tiri ti do ma sì che mi ricordo se quel matto che girava con i cartelli e poi a seconda degli orologi tirava fuori ciofecca al top mitico è stata bella ed è quella simpatica veramente simpatica e niente dai parto subito con la fegna piccola collezione perché tutti orologi della famiglia nel senso figli moglie io ma prima ti faccio vedere l'orologio del giorno che è un quarzon mamma mia batteria brutto enorme 45 di diametro 45 mm di diametro a mille funzioni tra cui la temperatura la bussola la l'altimetro sembra anche sai in quelle occasioni in cui sei tipo che ne so io al supermercato e non sai dove sono i surgelati il commesso dice sono lì a nord ovest bravo schiacci qui parte la bussola e ti dice dov'è così lo trovi oppure perché ne so magari nelle cose un po più pericolose mi devo tagliare le unghie di piedi no mamma lasciamo perdere va è un lavoro pericoloso lo faccio fare in l'officina sono più tranquillo partiamo adesso invece con gli orologi della famiglia allora questo è di andrea che ha 11 anni gliel'ho assemblato io simpatica movimento nh 35 36 mm la cassa dell'oistria perpetual diametro vabbè gli ho dovuto mettere un nato vabbè vedendo il polso piccolino insomma i cintoli normali ovviamente non gli stanno ho dovuto mettere questi un po tutti poi ce l'hanno per ora questo anche poi questo qui il perlon mi sembra che si chiama questo qui sì 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 così vabbè semplicissimo e via gli ho deciso di lui ad ora il blu fatto bene bello orologino quindi fatto bene fatto così e poi che poi se non mi sbaglio tuo figlio non era venuto perché aveva la febbre in quei giorni lì di orologico se non mi sbaglio è preso un bel vintage questo bel veglia automatico dei just con movimento un'unità il 2789 addirittura 34 mm carino carino lui è molto ci tiene particolarmente agli orologi ogni tanto mi guarda mentre magari li metto a posto e gli piace starli a curiosare insomma invece questi sono i due che a diego che mio figlio di 13 anni voglio preso questo bel braille mamma mia che bella skin diver lo vorrei io nella braille braille ok il movimento non sono riuscito proprio da per il perché c'è c'è un fondello con questa questa chiusura così pronto con la pallina classica non c'è modo non c'è verso di aprirlo e vabbè quindi se c'è se fai una ricerca su internet prima o poi lo capisci cosa c'è dentro anche senza aprirlo è perché insomma o per una ricerca per immagini braille ok skin diver 17 rubini e prima o poi lo trovi qualcosa tra movimento segreto non lo so e lo scoprire poi sempre a diego bellissimo questo veramente me l'ha fregato perché questo quello volevo per me lui adora l'arancione e vabbè quindi è bello ceduto volentieri è un nivada diametro da 32 32 poco però poco movimento un fhf 974 carica manuale che questo anche il braille era carico non so se l'avevo detto carino dai bella la sfera disse carino bello un arancione accesissimo il quadrante poi un po blu blu viola sono dei riflessi bellissime purtroppo non c'è luce non c'è molto sole quindi perde il quadrante perde un po però carino 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 insomma ci sta ci sta gli è piaciuto subito è niente se fosse 8 dal polso per mettersi avanti diciamo che gli sto convincendo un po al vinta se fosse un 38 di mia moglie moglie anche lei lei non li metteva mai gli orologi adesso da un po che mi vede sempre smanettare se lo zenith stellina sei un influencer ha influenzato i figli la moglie tutti a mettersi gli orologi adesso però sto zenith stellina qua cavoli dimmi che 32 mm anche questo che così c'è mi deprimo perché quell'altro 32 se fosse stato 38 quell'altro spettacolo da indossare 32 molto poco anche per me è movimento automatico il proprio il suo quindi di zenith il 25 32 un diametro 34 mm bello carino tenuto al carino abbastanza bene carino chiaramente placcato dopo invece un bel fisso si sta questo è un anche quello anche lui un carica carica manuale movimento 781 c'è la cassa po smangiucchiato questo qui è un 31 mm di diametro come si fa non si può da 31 infatti guarda che forse no piccolino gara per mia moglie e le è piaciuto subito devo dire che carino è il carico l'avo scelto per me anche io non ho un polso molto grande cari però va bene l'ha visto la piacere piaciuto e bracciale non è il suo almeno non è non è marchiato quindi non penso sia il suo ma lo passiamo invece ai miei due oggi questi sono altri due che ho preso io un po da uomo questo è un avia avia automatico con movimento fhf 909 è molto meglio nulla di che dei date anche questo con sfera la sfera arancione mi piace tantissimo questi colori così accesi il quadrante quel colore tipo occhio come si dice occhio di moffetta spero che non sia il culo della moffetta di drago di pigre o qualche animale insomma c'è sicuramente bello carino carino questo qua devo dire l'ho misurato a un ritardo perde tipo 246 secondi dopo 22 giorni infine questo è il mio uno degli ultimissimi acquisti zen stellina questo è un carica manuale e automatica scusa con un momento il 25 52 che ho visto che zenith lo fa sia manuale che automatico e questo è la versione diciamo automatico bello carino carino bel quadrante che un po su un grigio molto molto scuro però mi è piaciuto mi è piaciuto subito bello insomma anche a me molto bello niente meno basta direi che carrellata veloce dei miei ma si ti saluto complimenti per tutto perché sei un grande ciao 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 via diciamo orologi carini orologi carini e anche simpatici vado a vedere tutte tutta la serie di orologi della famiglia della moglie del figlio dei figli e poi si è anche concesso il luso di farci vedere due dei suoi perché prima ha dato la priorità alla famiglia tutto tutto è improntata sul vintage bene 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 l'orologio della signora mi sembra quel tisso ho visto che la cassa era veramente sgrattugiata veramente scartavetrata secondo me ha passato è passato sotto le mani di qualche maniscalco selvaggio che non ha lesinato a togliere materiale comunque dai bene tutti vintage nessun moderno niente di che magari è nessuno a parte della tua collezione presumo di sì hai fatto vedere solo due dei tuoi quindi passiamo oltre bravo e ti ringrazio per il cioffek alert per il top i cartelli che hai fatto un'altra volta sono stati simpatici e ti non ti sei beccato nemmeno un cioffek alert per questa volta ti sei salvato la prossima volta che ci vediamo ti do il cioffek alert dal vivo proprio in faccia prossimo video ciao davide ciao andrea da roma andrea roma il canale anzitutto grazie e mi piacciono molto le tue recensioni e soprattutto mi sono appassionato dalla rubrica appunto della collezione degli orologi degli appassionati del canale bravo e complimenti per tutto quello che fai va bene allora la collezione di oggi sarà una collezione piccola piccola però comunque mostrarte la però pensi dati la boss allora partirei da quello che odi che è questo è un classico smartwatch che uso per attività sportiva durante il lavoro per le notifiche comunque comodo comodo però niente di che insomma no classico smartwatch si poi questo questo qua in pratica è un mondain mondain orologio svizzero a batteria come e questo qua mi era stato regalato da un amico di mio padre che ora purtroppo non c'è più spiazza ne ha preso uno così per me cioè argentato e mio padre aveva preso placca d'oro c'è da cambiare la batteria ma comunque non l'utilizzo comunque vabbè lo tengo solo per il ricordo diciamo di questo amico di mio padre togliela simpatico ma niente di che togli la batteria che pericolosa il famoso siri zentro master si è a rovescio questo l'ho preso un mesetto fa e ci ho messo questo cinturino che è molto comodo perché quello suo di gomma era veramente di legno era importabile proprio occhio occhio ai cinturini aftermarket con la spring bar a sgancio rapido è perché se non è di qualità che c'è il rischio che non sia di qualità la spring bar a sgancio rapido si sgancia da sola mi è successo anche a me sul pro master appunto che se non sono di qualità sono un bobo leggerissimamente troppo corte o troppo lo tenera la molla interna e la spring bar a sgancio rapido ti fa il danno io su un citizen di questo tipo qua metterei veramente un cinturino nato che passa sotto e in qualsiasi situazione si rompe una spring bar l'orologio ti rimane attaccato al polso non cade capito per quello che sono nati nato questo cinturino qua che hai usato te e fa rende la figura essendo in nylon del nato ma con lo svantaggio di essere molto più pericoloso del nato subito cambiato il cinturino e vabbè a questo niente da aggiungere ha fatto anche due le recensioni tutto quanto bello l'oggetto per tutti i giorni va bene tutti i giorni poi poi ultimamente su una piattaforma di aste online sono giudicato questo buloa vintage del 69 70 gli anni lì si ma la corona è molto carino placato oro si ma se placato oro anche la corona deve essere placata oro non ha senso che la corona è acciaio non è suo suo quadrante particolare con questa croce rossa e mezzo e a questo cinturino che non è il suo originale perché è stato sostituito però mi ha dato anche il suo che questo però vabbè ai segni del tempo ovviamente tu e quindi vabbè non credo sia più portabile questo sicuro quello che ci hai messo magari voglio riprenderne uno simile per metterci poi la fibbia sua magari secondo me ci sta meglio di questo qua rossi e nero questo al movimento in pratica aspetta l'ho allentato per farlo vedere eccolo qua movimento m11 da quello che ho capito bulova non fa movimenti in house però no quello che ho capito forse perché in una puntata io mi sono sbilanciato e ho sparato ma non mi ricordo se bulova fa calibri in house in cassavaetta no in realtà poi dopo mi sono informato bene e bulova faceva per un periodo ha fatto calibri propri e questo qua dovrebbe essere c'è scritto anac 11 cosa c'è scritto è uno dei calibri che facevo bulova se li faceva fare quindi ora non sinceramente non ho ancora approfondito bene che cosa sia comunque va bello orologietta anche questo ma anche se sinceramente credo che lo venderà non lo poi l'ultimo pezzo della collezione cos'è cos'è una collezione come già di anticipato è questo oggi idro conquest da 39 mm ceramica questo è arrivato proprio oggi fresco fresco bello e ho preso la versione con cinturino perché io preferisco non so è più comodo lo preferisco insomma prendere il bracciale faccio sempre in tempo se voglio e insomma sinceramente il cinturino è proprio secondo me un'altra cosa proprio comodo e niente questa era la mia piccola collezione bravo ancora complimenti per tutto love love ma c'è anche te il tatuaggio sulle dita ascolta si bello questo orologio in idro conquest qua è bello fatto bene a prenderlo il bracciale sono sempre in tempo a prenderlo dopo sì però il bracciale a parte ti costa uno stonfo secondo me se fai il calcolo di prendere l'orologio con il bracciale e acquistare il cinturino dopo rispetto a prendere l'orologio con il cinturino e acquistare il bracciale dopo risparmi più prendendo il bracciale secondo me già nell'orologio e cinturino dopo secondo me poi bisognerebbe fare i conti precisi però di solito si tende a prenderlo col bracciale suo originale che nel pacchetto insieme costa di meno rispetto che singolo da solo comunque detto questo passiamo al prossimo ciao davide ciao e agli amici del canale ti faccio i complimenti per questo tuo format vincente grazie passiamo agli orologi alla mia modesta raccolta allora partiamo da questo orologio che è un tag oir formula 1 particolare metri di impermeabilità diametro 34 millimetri un orologio molto sottile a batteria è un quarzo leggero comodo diciamo che questo orologio è la risposta della tag agli orologi swatch degli anni 80 infatti molti modelli tag oir formula 1 hanno anche la cassa in plastica e diciamo questo orologio mi è stato regalato per la cresima e mi ha accompagnato per tutta la mia adolescenza fino alla laurea bravo e lo vedi così sembra nuovo ma in realtà gli ho cambiato il cinturino e la ghiera questo cinturino diciamo il difetto di questo cinturino è che dopo un paio d'anni di utilizzo ovviamente intenso si irrigidisce e si spezza quindi sì ma credo che sia un po il difetto di tutti i cinturini in gomma no cioè questi orologi qua poi li devi indossare al mare acqua salata sole ombra asciuga acqua salata sole ombra asciuga e per forza no non sono eterni dopo diversi cinturini cambiati decisi di fare questo investimento e comprargli questo bracciale originale giubilì bravo in questo modo abbiamo risolto il problema di questo cinturino diciamo che all'università essendo uno studente fuori sede avevo sempre questa grande passione per gli orologi ma non poteva essere coltivata ovviamente quindi mi doveva accontentare a guardare gli orologi nel catalogo mi sono laureato le condizioni economiche fortunatamente sono migliorate e decisi di farmi questo regalo è un tag oir carrera crono pulsante a pompa ha le sue anze spigolose come tutti i modelli carrera ci piace monta un movimento tag oir calibro 16 ma in realtà altro non è che un movimento va giù 750 anche sia per le rifiniture che ritengo pregevoli questo orologio anche questo l'ho indossato ininterrottamente per molti e molti anni mi sono anche sposato con questo orologio e quindi ci sono veramente molto legato per quello che rappresenta va bene diciamo che i 40 anni sono arrivati in un attimo e quindi ho deciso di comprare questo eberhard modello extra questo è il modello grand tile perché ha praticamente misura 41 millimetri anziché dei canonici 39 ci sta il cronografo ci sta è chiuso con delle viti movimento automatico crono diciamo uno degli orologi più precisi che ho è un orologio che io indosso nelle occasioni più formali formali e ovviamente anche questo ha la sua storia e ci sono legatissimo legatissimo va bene tra i 40 e 50 davide è un attimo è un attimo poi si muore siamo arrivati ai miei 50 anni tocco ho deciso di farmi un altro regalo e acquisto questo luminor marina panerai è un orologio che ho sempre amato è un orologio iconico come pochi ce ne sono questo qui è uno di questi ha questa sua particolarissima cassa di forma a cuscino ha la sua inconfondibile proteggi corona diametro 42 millimetri è una vestibilità a differenza di quello che uno possa pensare ottima sul mio polso da 17 si resta molto bene ed è molto comodo d'estate lo utilizzo con il suo cinturino in gomma occhio che si rovina che dire io quando ho dovuto scegliere questo regalo per i miei 50 anni ti devo dire la verità ho un po' snobbato i rolex li trovo troppo inflazionati quello si questo invece è un orologio che poi ha anche un po' di italianità in sé questo modello in particolare è il 1950 realizzato nel 1949 e ad oggi poco è cambiato quindi non è un orologio che è soggetto a mode o a tendenze per finire cos'è cos'è passiamo a un micro brand che è questo Christopher Ward è un orologio molto particolare che mi ha incuriosito vedendo le varie recensioni si Christopher Ward lavora veramente bene ragazzi su questo non c'è nulla da dire guardate qua questo orologio qua io ci sono stato anche vicino a volte a prenderne uno poi sai com'è non clicchi non clicchi una volta seguivo proprio veramente anche tutti i buoni sconto che mandavano perché vendono solo tramite il loro sito web basta quindi ci sono stato vicino questo qua c'è delle finiture si vede le finiture dell'acciaio che sono veramente fatte bene le superfici arzigogolate bello orologio bravo effettivamente ha il suo perché è un quadrante veramente ipnotico che richiama diciamo la bandiera inglese si è il logo è il logo ripetuto anche il datario è dello stesso colore del quadrante quindi è molto discreto mimetizzato ha queste spallette proteggi corona monta un calibro sv200 con molti altri orologi molto più blasonati e costosi certo ha uno spessore inferiore ad un centimetro cosa non da poco bracciale bellissimo comodissimo ricordo un po' il prx ma vi posso garantire che la qualità è superiore ma vorrei sottolineare e soffermarmi a questa lunetta e beh ho contato Davide ben cinque lavorazioni tra il lucido satinato quindi solo questa corona ha cinque lavorazioni quindi sfido diciamo orologi più blasonati ad avere questi tipi di rifiniture e con questo Davide io ho concluso diciamo visto tutto ciò che succede nel mondo guerra e quant'altro credo che il tuo saluto sia quello più auspicabile love 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 ma sei anche un po' diciamo catastrofista con le guerre che ci sono nel mondo poi dai 40 ai 50 è un attimo ai 40 sono arrivati al volo dai 50 ai 60 si vola dai 60 alla tomba è un attimo cioè proprio il pessimismo cosmico è insito in te va bene però per lo meno gli orologi ci hai deliziato con dei begli orologi Panerai è uno di quelli che ultimamente sto tenendo sotto controllo devo anche vi confesso che ho anche chiesto informazioni online l'ho fatto informazioni su un Panerai su un submersible ho chiesto informazioni poi dopo non è andata a buon fine ma come vedete mi ci sono già buttato per il Panerai quindi non è escluso che prima o poi poi Christopher Ward che sei anche impegnato molto è spezzato più di una lancia è spezzato tante lancette a favore di Christopher Ward perché chiaramente si vede che c'è della ricerca della ricerca del design e quando ti metti a fare delle cose complicate così come tutte queste sfaccettature poi devi avere anche la possibilità di farle di qualità e loro ci riescono sono veramente sono veramente bravi peccato che non la distribuzione fisica perché ormai ti hai detto che è un micro brand ma sinceramente io non lo considero un micro brand perché hanno più di un distaccamento hanno anche una sede in Svizzera che hanno acquistato loro che fai calibri in house la non mi ricordo o roger e qualcosa sh o roger che fai il loro calibro in house e fai calibri in house anche per master singer ecco quindi come vedi ci sono anche qua sinergie industriali che portano a fare lo stesso calibro che viene considerato in house per una o più aziende no? non ci dobbiamo scandalizzare di questo comunque dai sei promosso ti ringrazio per il video e per l'esposizione grazie mille ragazzi mi sembra di aver detto tutto anzi boh mi sembra di aver detto tutto vi ringrazio per essere arrivati fino a qua spero vi siano piaciuti i video il presentatore l'orologio del giorno il contesto e il tempo e anche lo spirito natalizio che ci metto all'inizio che fa anche l'inizio vi ringrazio per essere arrivati fino a qua e vi ricordo gli appuntamenti fissi che come sempre sono quando voglio io il più spesso possibile qui su youtube love ciao 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 ciao